Concentrato, questo è tranquillo. Non c'è paura, dai, dai, ancora! Dai, dai, aiutalo! Forte, 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 bravo, ancora, 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 bravo, 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 bravo! Ok, sulla testa, adesso, seguiamo! Bravo, eh, sono in due, non buttiamola mai, cerchiamo di giocare! Apri i timoni, apri i timoni! Oh! 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 Carina che comini, ragazzi! Guarda quanto spazio! Prende, grazie! Buon anno! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti